Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, mi chiamo Marco Gobetto, ho 53 anni e sono laureato in Ingegneria Elettronica. Ho iniziato il mio percorso professionale circa 30 anni fa nel mondo automotive, lavorando per l'allora Fiat Auto e per Ferrari, quindi mi sono spostato in altri settori del gruppo facendo esperienze in Italia e all'estero nell'ambito delle operations. Sono un associato di Federmanager e sono un manager di Stellantis. In questo mio percorso professionale ho avuto modo di fare esperienze in Italia e all'estero, alcune anche molto importanti. Ho avuto il privilegio di lavorare nel merge, nell'integrazione con Chrysler negli Stati Uniti per alcuni anni e di insegnare al Politecnico nell'ambito del corso di Ingegneria dell'autoveicolo dove tuttora sono titolare di un corso nella laurea master e tuttora dirigo una business line che si occupa di formazione e consulenza all'interno di Stellantis appunto. Mi ritengo molto fortunato perché ho avuto modo di maturare una conoscenza e un'esperienza articolate non solo nel mondo automotive ma in diversi settori industriali e anche dei servizi che oggi riesco a mettere a disposizione nell'ambito del mestiere che svolgo. Venendo al tema del nostro incontro, diciamo che le sfide di oggi che ci troviamo ad affrontare sono a mio modo di vedere molto più difficili e complesse di quelle che probabilmente anche solo due o tre anni fa avremmo potuto immaginare. Nell'ambito della fisica esiste un principio universale che è il principio di azione e reazione e questo ci dice che ogni volta che mettiamo in atto una serie di comportamenti e di azioni corrispondono a delle azioni uguali e contrarie e credo che questo sia quello che è successo in fin dei conti in questo periodo di pandemia. Ci siamo trovati di fronte a uno stato di necessità forse perché non siamo riusciti a mettere in atto in maniera autonoma dei cambiamenti che si rendevano necessari. E questo stato di necessità che ci ha portato a modificare i nostri stili di vita e i modelli di business che dobbiamo mettere in atto ci ha messo di fronte a delle scelte importanti. Mi viene in mente il principio dell'evoluzione darwiniana come unica chiave di sopravvivenza. Credo che chi è in grado di mettere in atto questi principi rapidamente avrà l'occasione di cogliere le migliori opportunità. I modelli di business stanno cambiando rapidamente. Mi viene in mente uno studio che ho letto durante il periodo pandemico di Forbes International che cita l'e-commerce e lo smart working come dei fenomeni di cambiamento che rimarranno stabili anche dopo il periodo pandemico. I modelli di business come l'automotive, il commercio stesso, i trasporti in generale, pensiamo al mondo della farmaceutica con le recenti scoperte sui vaccini, stanno cambiando rapidamente. Questo richiede delle competenze diverse. Le cosiddette smart skills ci dicono che dobbiamo essere in grado di affrontare i temi in maniera specifica andando a lavorare per obiettivi che siano raggiungibili e queste capacità sono indubbiamente delle competenze nuove che bisogna maturare. Tuttavia non basta, bisogna avere anche delle competenze distintive e queste competenze distintive mi fanno venire in mente l'innovazione tecnologica e quindi la digitalizzazione, la realtà virtuale, ma anche temi molto più sensibili come l'ambiente e l'ecosostenibilità. Per quello che riguarda le attività che noi facciamo abbiamo maturato questa esperienza e mettiamo a disposizione di manager e aziende la capacità di saper trasferire queste competenze e questo lo facciamo attraverso una struttura di academy, di relazioni con l'università e centri di competenza sul territorio e un pool di esperti che sono in grado di trasferire queste competenze. Diciamo che l'evoluzione è nel nostro DNA e imparare oggi per essere i migliori di domani è un po' il nostro mantra. Con questo vi ringrazio e vi saluto. Buongiorno, sono Bruno Mellano, sono il garante dei detenuti della Regione Piemonte o per meglio dire, come dice il testo della legge, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quindi un ambito molto più ampio che non si occupa soltanto di detenuti ma anche di tutte quelle persone che per misure varie possono essere limitate nella libertà personale. I diritti dei cittadini ristretti in questa fase di pandemia, di emergenza sanitaria, sono stati ancora di più all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Abbiamo avuto anche nelle carceri un forte impatto dell'emergenza sanitaria, del Covid e abbiamo avuto persone che si sono ammalate sia fra gli agenti che fra gli operatori e ovviamente fra i detenuti perché le comunità chiuse, come hanno dimostrato tragicamente la vicenda delle RSA e delle case di riposo, non sono necessariamente luoghi protetti, non sono necessariamente luoghi dove il Covid o il virus non entri. E allora in un momento in cui abbiamo oltre 53.000 detenuti, 53.660 per una capacità sulla carta di 50.000 posti, sulla carta perché in molti casi gli istituti hanno dei posti temporaneamente non disponibili, noi come garanti abbiamo più volte segnalato la necessità di fornire ai direttori, ai comandanti, agli agenti, agli operatori, la possibilità di gestire gli spazi con maggiore flessibilità, facendo scendere il numero dei detenuti ristretti, dando misure alternative, pene alternative al carcere e permettendo sin da subito una campagna informativa e vaccinale dentro le strutture ristrette. I diritti dei cittadini detenuti non sono diritti eccezionali, come tutti i cittadini hanno il diritto alla sanità pubblica e hanno il diritto alla tutela del proprio benessere e della propria salute. Ma considerare le persone detenute o ristrette o limitate nella libertà come i cittadini comuni è un errore. Come diceva Don Milani, non si può trattare in modo uguale persone diverse. Stiamo parlando di persone che hanno una forte limitazione della libertà e che quindi devono essere in qualche modo protette dallo Stato che ne limita la facoltà di movimento e la facoltà di scelta. Per questo ho più volte lanciato un grido di allarme affinché la comunità penitenziaria fosse tra le prime ad essere vaccinata, ad essere monitorata dal punto di vista del Covid, sia nella parte degli operatori, ripeto, agenti e collaboratori del carcere, ma anche attraverso una campagna informativa vaccinale per tutti i detenuti. Perché non è bastato sospendere i colloqui, sospendere l'ingresso dei volontari, della formazione, della scuola. Abbiamo avuto nel nostro Piemonte oltre 500 detenuti che sono stati positivi al Covid. In questo momento, oggi, mentre registro, sono solo tre. Abbiamo avuto 480 agenti che sono stati positivi al Covid dall'inizio della pandemia. In questo momento, sono solo quattro. Abbiamo una situazione che è sicuramente ritornata sotto controllo, ma quello che ci ha insegnato questa emergenza è appunto non considerare in modo uguale persone diverse. Le persone che sono in carcere non possono andare dal proprio dentista di fiducia o dal proprio dermatologo o dal proprio fisioterapista. Hanno bisogno che la sanità pubblica entri in carcere e faccia al meglio il proprio compito. E allora, i diritti delle persone recluse in questo momento di pandemia e di emergenza sanitaria hanno ancora di più evidenziato come la Regione, in primo luogo, le istituzioni del territorio devono occuparsi in modo attivo e proattivo rispetto ai diritti delle persone detenute a vantaggio di tutta la comunità penitenziaria a vantaggio del territorio. Occuparsi di carcere vuol dire occuparsi della sicurezza del territorio, l'esecuzione della pena e un servizio pubblico. Come garanti, questo cerchiamo di fare e per questo vi saluto e vi chiedo un momento di attenzione particolare rispetto alle persone private della libertà. Buongiorno, alla prossima. Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi sono qui per parlarvi del difensore civico regionale, organo di garanzia preposto alla tutela amministrativa dei cittadini secondo quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte e dalla legge regionale numero 50 del 1981. Il difensore civico regionale è designato dal Consiglio regionale a due terzi dei componenti iscritti all'Assemblea e di poi nominato con decreto del Presidente della Giunta. L'Istituto del difensore civico è finalizzato a garantire il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il divieto di discriminazione ed il principio di pari opportunità, il diritto alla salute nei casi di disfunzioni dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, inoltre il difensore civico tutela il diritto di accesso civico generalizzato, ambientale e documentale. Passiamo ora ad illustrare quando interviene il difensore civico. Il difensore civico interviene su istanza delle persone fisiche giuridiche oppure anche d'ufficio quando rilevi un ritardo, un'omissione, una disfunzione o un abuso da parte di un'amministrazione. In particolare il difensore civico interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali, degli enti delegati dalla regione, delle amministrazioni periferiche dello Stato quali l'Inps o l'Inail e nei confronti delle strutture afferenti al servizio sanitario regionali e delle strutture private convenzionate con il servizio sanitario. Per quanto concerne invece il diritto di accesso, il difensore civico interviene contro le decisioni negative assunte da regioni ed enti locali nel caso di accesso civico generalizzato e nei confronti di regione e comuni e province nei casi di accesso documentale ed ambientale. Alle luce di tali premesse bisogna quindi sottolineare che il difensore civico non può intervenire nelle controversie tra privati per le richieste di risarcimento del danno per l'annullamento di contravvenzioni stradali nei procedimenti di volontaria giurisdizione nelle controversie con i gestori di servizi pubblici di telefonia gas energia elettrica e servizio idrico ed infine non può intervenire nelle vicende riguardanti la materia della giustizia dell'ordine pubblico e della sicurezza a questo punto diventa fondamentale capire come interviene il difensore civico regionale ebbene il difensore civico dopo aver esaminato la fondatezza e l'ammissibilità dell'istanza può attivare un intervento richiedere informazioni formulare rilievi proposte sollecitazioni nei confronti dell'amministrazione che è coinvolta dalla vicenda pertanto il difensore civico non può svolgere attività di consulenza legale accertamenti tecnici verifiche contabili e soprattutto non può annullare revocare o emanare atti amministrativi d'altro canto il difensore civico nel caso di ricorsi in materia di accesso agli atti può riesaminare la decisione negativa dell'amministrazione la quale se non confermerà il diniego dovrà consentire l'accesso agli atti in conclusione vediamo ora dove si trova il difensore civico l'ufficio del difensore civico ha sede in piazza Solferino 22 i cittadini che vogliono richiedere l'intervento del difensore civico possono compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito del consiglio regionale ed inviarlo via posta anche elettronica certificata o d'ordinaria ai seguenti recapiti difensore punto civico chiocciola cr punto piemonte punto it difensore punto civico chiocciola cert punto cr punto piemonte punto it il servizio è totalmente gratuito grazie buongiorno buongiorno sono enrico moriconi il garante dei diritti rimani della regione piemonte e voglio parlare del cosiddetto problema del lupo cosiddetto problema perché i due argomenti che sono citati come problemi appunto l'aggressione per le persone e eventuali danni alla zootecnia sono facilmente risolvibili le aggressioni si risolvono da sé in quanto sono centinaia di anni che non ci sono più notizie di aggressioni del lupo verso le persone e l'etologia del lupo fa sì che esso che egli si allontani dalle persone piuttosto che avvicinarsi per quanto riguarda invece i danni alla pastorizia si risolvono come? proteggendo le greggi di giorno con i cani e di notte con le reti elettrificate naturalmente eventuali danni devono essere rifondati ricoperti a carico delle amministrazioni pubbliche tutto questo quindi permette di dire che la convivenza con il lupo è possibile ed è una ricchezza naturale qualcuno dice ma non si potrebbero uccidere i lupi ebbene si deve dire i lupi non si possono uccidere perché in base alle leggi europee queste uccisioni non sono previste certamente con lunghe disposizioni legislative si potrebbe arrivare ad ottenere l'abbattimento di una quota dei lupi sul 10-20% però questo non risolverebbe assolutamente il problema perché i posti lasciati vuoti dai lupi abbattuti sorrebbero occupati dai lupi che rimangono in vita e quindi il problema tale quale si ripeterebbe quindi questo ci porta direttamente al problema della formazione e informazione dei cittadini perché sovente sulla questione del lupo circolano notizie esagerate notizie che incutono paura e non contribuiscono a formare una vera concezione di quello che è la vita del lupo e quindi le conseguenze per le persone e gli animali e questo ad esempio lo vediamo quando circolano notizie fotografie filmati di lupi nella stagione invernale quando scendono più vicino a valle fotografie e immagini che provengono da non si sa da quale regione e vengono fatte circolare dando l'impressione che ci sia una diffusione enorme dei lupi cosa che in verità non è su questa formazione su questo modo di informare le persone e di diffondere notizie corrette c'è un progetto europeo che si chiama Life Wolf Alp che riguarda appunto la diffusione di sistemi di difesa del lupo da parte delle persone e delle egregi contro il lupo appunto aiutando i pastori a realizzare delle protezioni e nello stesso tempo diffondendo notizie corrette per la popolazione questo progetto è un progetto finanziato dall'Unione Europea e quindi è un progetto che è molto utile proprio per diffondere un corretto sistema di convivenza tra il lupo e le persone tutto questo ci porta quindi all'affermare che la convivenza con il lupo è assolutamente possibile e non bisogna cedere a queste informazioni queste notizie che possono girare e che sono assolutamente di tipo allarmante e che non contribuiscono a favorire una conoscenza corretta del fenomeno della diffusione del lupo nel complesso quindi si invitano tutte le persone a informarsi correttamente su quelle che sono le problematiche legate alla presenza del lupo e ricordiamo anche che c'è la possibilità di firmare online una petizione che è stata lanciata dalle associazioni animaliste della regione Piemonte invitando ad una maggiore attenzione e ad informarsi sulla questione del lupo vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata buongiorno a tutti mi chiamo Ilenia Serra e sono la garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Piemonte dal mese di dicembre del 2019 la figura del garante è strettamente connessa con la convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 che ha previsto un organismo di controllo e di monitoraggio della sua applicazione il comitato sui diritti del fanciullo che ha proprio raccomandato fin dal 2003 a tutti gli stati membri di dotarsi di figure indipendenti che sono appunto gli attuali garanti per l'infanzia la figura del garante rappresenta quindi a livello regionale e attraverso la rete dei garanti regionali e la collaborazione con l'autorità garante nazionale uno strumento per mettere al centro dell'attenzione ad ogni livello la condizione delle persone di minore età e tra queste di quelle maggiormente a rischio il primo compito del garante è quindi quello di concorrere alla diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partendo proprio dalla diffusione della convenzione ONU sui diritti del fanciullo delle altre convenzioni internazionali ed europee ed in genere di tutte le disposizioni normative statali o regionali che si occupano di persone in età evolutiva e lo fa collaborando attraverso un'azione in sinergia con gli assessorati regionali competenti con il mondo dell'associazionismo con le scuole con le università organizzando o comunque partecipando a momenti di sensibilizzazione di informazione e di formazione rivolti sia al mondo degli adulti sia al mondo delle persone di minore età che devono essere i primi a conoscere quelli che sono i propri diritti svolge un'attività di rappresentanza degli interessi e dei diritti delle persone di minore età presso le istituzioni regionali ha il compito anche di vigilare sull'attuazione effettiva di questi diritti e lo fa quindi sia in senso generale sia in senso particolare partecipando anche qui a dei tavoli di lavoro in sinergia con istituzioni pubbliche e private e attraverso appunto l'organizzazione di progettualità e di iniziative di vario genere ha il compito di vigilare sulle condizioni di accoglienza dei minori all'interno delle strutture che li accolgono ha una funzione molto importante relativa ai minori stranieri non accompagnati già la legge istitutiva prevedeva il compito di vigilare appunto su quelle che sono le condizioni di accoglienza e di inserimento dei minori stranieri nel nostro territorio e la legge cosiddetta Zampa del 2017 ha effettuato una vera e propria rivoluzione della materia prevedendo la figura del tutore volontario che è una persona che non solo rappresenta giuridicamente il minore straniero non accompagnato ma anche il compito di fornirgli una guida ed un orientamento per accompagnarlo verso il raggiungimento della maggiorità e soprattutto il raggiungimento dell'indipendenza e dell'autonomia garantendo nel frattempo che gli siano che gli sia possibile fruire di tutti i diritti che il nostro ordinamento garantisce loro il compito dei garanti è quello di individuare selezionare e formare questi tutori volontari esiste un bando che è attualmente aperto e a cui quindi si può partecipare l'adesione nella nostra regione è stata veramente molto molto alta proprio a rappresentanza di quanto siano sentiti i principi dell'accoglienza e della solidarietà nel nostro Piemonte per poter attuare queste obbligazioni questi compiti che la legge prevede per il garante e per i tutori volontari è stata prevista una convenzione di cooperazione rinnovata nel 2021 che prevede almeno un corso di formazione l'anno e poi un sostegno post nomina e dei momenti di aggiornamento rivolto sia ai tutori sia agli operatori del settore e l'altra funzione importante sono le segnalazioni chiunque si può rivolgere al garante anche le persone di minore età le scuole le associazioni i consorzi i genitori gli affidatari per segnalare presunte violazioni dei diritti delle persone di minore età e il garante svolge a questo punto un'attività di istruttoria cercando di mediare tenendo in considerazione l'interesse preminente del minore vi ringrazio e buongiorno i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione a